Solimano I, detto il Magnifico Volcanuni, fu sultano e padiscià dell'impero ottomano dal 1520 fino alla sua morte, avvenuta nel 1566. Fu uno dei monarchi più importanti dell'Europa del XVI secolo e portò l'impero ottomano ai massimi fulgori. Biografia Solimano nacque a Trabzon, in Turchia, nel 1495. Suo padre, Selim I, era un sultano bellicoso che aveva esteso i confini dell'impero ottomano fino all'Egitto e al Nordafrica. Solimano fu educato fin da giovane alla guerra e alla politica. Nel 1520, alla morte del padre, Solimano salì al trono all'età di 25 anni. Era un uomo intelligente, carismatico e un abile comandante militare. Sotto la sua guida, l'impero ottomano continuò ad espandersi. Conquiste militari Solimano condusse numerose campagne militari, conquistando gran parte dell'Europa sudorientale e dell'Asia. Nel 1521 conquistò Belgrado, aprendo la strada all'invasione dell'Ungheria. Nel 1526 sconfisse l'esercito ungherese nella battaglia di Moax, che segnò la fine della potenza ungherese. Nel 1529 Solimano assediò Vienna, ma fu respinto dagli austriaci. Tuttavia, la sua invasione dell'Ungheria pose fine al dominio cristiano nell'Europa sudorientale. Solimano conquistò anche Cipro nel 1571 e Tunisi nel 1574. Nel 1553 conquistò Baghdad, ponendo fine al dominio persiano in Mesopotamia. Sviluppo culturale Solimano non fu solo un abile conquistatore, ma anche un mecenate della cultura. Sotto la sua guida, l'impero ottomano raggiunse un periodo di grande splendore culturale. Solimano commissionò la costruzione di numerosi edifici, tra cui la moschea di Solimano a Istanbul, considerata uno dei capolavori dell'architettura ottomana. Promosse anche le arti e le lettere, favorendo la fioritura di letteratura, musica e pittura. Morte Solimano morì nel 1566 durante l'assedio di Zijetvar, in Ungheria. Fu un sovrano illuminato che portò l'impero ottomano a un periodo di grande prosperità. Eredità Solimano il Magnifico è una figura complessa e controversa. È stato un grande conquistatore che ha ampliato i confini dell'impero ottomano, ma è stato anche un tiranno che ha represso i suoi oppositori. Tuttavia, la sua eredità è innegabile. Solimano è stato uno dei sovrani più importanti dell'Europa del XVI secolo e ha lasciato un segno duraturo, nella storia. Alcuni fatti interessanti su Solimano il Magnifico. Solimano era un uomo di grande cultura e amava la poesia, la musica e la letteratura. Era anche un abile poeta e scrisse numerosi versi in turco e persiano. Sposò due donne, Maidevran e Urrem Sultan, da cui ebbe sei figli. Fu un grande costruttore e commissionò la costruzione di numerosi edifici, tra cui la moschea di Solimano a Istanbul. Morì nel 1566 durante l'assedio di Zijetvar in Ungheria.